Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso video parlerò del detto prendere a pesci in faccia. Prendere qualcuno a pesci in faccia. Allora, cosa significa questo modo di dire? Significa trattare male, trattare molto male. Perché? Perché l'immagine è la seguente. Allora il pesce, sapete che cos'è? Noi prendiamo il pesce e lo sbattiamo in faccia a qualcuno. Quindi il trattamento, capite benissimo, che non è piacevole quello di ricevere dei pesci in faccia. E di solito questo detto lo si trova riferito a chi parla. Noi non diciamo li abbiamo presi a pesci in faccia, ma di solito tendiamo a dire mi hanno preso a pesci in faccia, sono stato preso a pesci in faccia, l'hanno preso a pesci in faccia, eccetera eccetera. Quindi la persona che subisce un trattamento negativo più che essere responsabile di un trattamento negativo. Quindi prendere a pesci in faccia vuol dire trattare male, ma più che male molto, si intende anche molto male, senza rispetto, senza alcuna considerazione, in modo anche brusco magari. Quindi sempre tutto trasmesso nell'immagine di questo pesce, no? Che ci viene sbattuto in faccia, quindi ecco, non è un trattamento piacere. Quindi vi saluto.